Francesco, un 13 mi pare, 12, anche meglio, peccato che abbiamo fatto solo una prova, c'era un bel vento, superventi nodi, trafficato, l'hai aspettato tutta la settimana? L'ho aspettato tutta la settimana, anche un po' di meno mi sarebbe bastato, però che dire, mi sia andata, meno male, peccato che in una sola prova di oggi. Ma il 12 era in recupero, com'è andata? Sì, ho girato il 18esimo, poi ho fatto un po' di recupero di Lasco, poi ancora la seconda polina, e ho i soldi, sempre un po' di recupero in questo campionato. Davvero, domani che programma avete? Domani è finita, guarderemo la medal e poi andremo a casa. E guarderete tutti la medal, ahimè, purtroppo, sì. Ok, bravo comunque Francesco, grazie mille.